Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, sarà un video stranissimo, mi trovo vicino al ristorante di Giovanni E' proprio lì, all'ingrocio sulla destra E niente, purtroppo ho fame, in questo periodo ho fame Penso che si veda che ho fame E vi voglio portare a mangiare nella spaghetteria più famosa di Cheyenne La Osso Di La spaghetteria più buona di Cheyenne La Osso Di significa in pratica le vecchie quattro stagioni Infatti lao è vecchio, si è quattro e zi sta per stagione Questi qua sono i piatti più buoni Io ne ho roba a mie, ne ho romie Con la zuppa Già di a mie Ne ho romie Ne ho due mie, qua c'è la trippa Quattro stagioni Quattro stagioni Quattro stagioni Chiarà di che fantastico sono due tipi di peperoncino carne di vitello meraviglioso la mia amica Ishan mi aveva detto che si potevano scegliere tra spaghettino corto e spaghettino tipo pappardelle tagliatelle e invece no qua c'è solo lo spaghettino piccolo mi ha dato fastidio questa cosa qua vi ho chiesto di farlo molto piccante ma che belli guardate qua spaghettino buonissimo La carne è proprio buonissima Tra l'altro vi faccio vedere una cosa c'è proprio il piatto brandizzato Laos Suizi con il simbolo di Cheyenne potete vedere una specie di S che bontà ragazzi che bontà è spettacolare buonissimo è veramente il più buono che ho mangiato di notte queste spaghetterie perché esistono pure delle filiali di pombo, tarocche vabbè, come posso dire per esempio le copie rimangono tutte aperte H24 incredibile lo spaghetto qua si succa lo spaghetto si succa non c'è la forchetta quindi io non riesco a fare il rumore caratteristico io non riesco a fare il rumore caratteristico che poi solamente 15 yen circa 1 euro e 72 euro io non so come cavolo facciano cioè io mi mangio il peperoncino come se fosse un biscotto qua nel Donbei non sanno mangiare molto piccante secondo me ah c'è pure un peperoncino secco qua non piccante ma buonissimo di gusto vi faccio vedere il piatto finito ecco qua le bacchette non vanno mai messe dentro il piatto ma vanno messe così così porta sfortuna ho detto che c'è un Mienfei sia outside cioè i piattini piccoli gratis c'è scritto qua Mienfei ciao Eh你好 我看到有 Mienfei Cellac c'è questo? C'è questo c'è questo Mienfei? c'è questo Mienfei cellac ci sono gratuiti lasciamo perdere neanche so come si chiama quella cosa me lo ha detto ma non riesco a capire come si chiama allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto è stato una specie di blog in pratica mentre mangiavo pure qui è buonissimo qua è buonissimo qua invece cibo del guandon spettacolare l'ho mangiato l'altra sera penso che vedrete le foto in sovraimpressione e niente allora spero vi sia piaciuto questo video un po' più bloggeggiante vi ho fatto vedere laos g il franchising di spaghetterie più importante di Shea quindi lasciate un mi piace commentate per favore iscrivetevi cerchiamo di arrivare a questi 1000 iscritti su youtube dai ah qua c'è un altro laos g cioè ci sono due laos g nel giro di 500 metri ciao ciao